Live Social Ciao amici di Instagram, abbiamo appena terminato una fantastica intervista con Francesco Luciani, presidente dell'associazione Ferroviario di Suno. Di cosa abbiamo parlato Francesco? Abbiamo parlato da quanto tempo esiste questa associazione, come è nata l'idea, cosa ci si aspetta nel visitare il museo e quali sono i progetti per il futuro. Per saperne di più andate a vedere il video completo, lo trovate sulla pagina di Facebook Museo Ferroviario di Suno e sulla nostra pagina di Facebook Live Social Radio. Ciao!